Sono scendicita e oggi dobbiamo spaccare i blocchi sotto i nostri avversari Allora, nascondo la chat perché se non t'annoia, ci attiviamo di tutti Allora, noi dobbiamo distruggere, tipo, li dobbiamo far cadere fino all'ultimo strato qua, nella torta A me piace di più perché ci sono più chance Vai, vai, uno ci è accaduto, eh Noi ci è accaduto all'inizio, tutti sciolto No, te muori Ah, è vero, c'è anche la drogazione La drogazione, sì No, c'è un VIP Quando ci sono i VIP, sempre c'è Boh, ya Sempre possono volare, tipo Hanno cose, tipo TNT Questo E questo è quello che vi parlavo Allora Facciamo con te Devevi ad altri avversari Ah, è vero, sotto di noi Ci possono... Guardate Aiuto, io sono drogato Bevo la droga Allora Allora Aiuto, danno una noia a questo qua Sì Dopo perché si sono fatti un team Allora Ecco No, è un VIP VIP, quello che mi ha fatto cadere Sono stati su quelli I tappetini Morto C'è un motor Uff Boh Me lo fa Sono morto Fortuna Ah, mille, no Babano Non so quanto ti vuoi far cadere Sono nell'ultimo blocco Madre in YouTube No Vabbè Li facciamo un'altra farsa Beh Ora ce le facciamo tutte E ora facciamo la pizza Con uno strato è basta Però Allora Facciamo contro Guardate Tipo è questo Tipo c'è ogni blocco Però Cade Mori Mori Immediatamente Cade Morto Siamo in tre Sì, sì Siamo in tre Non so perché Però io comincio Io spacco Ecco Ora è iniziato Vai, 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 vai Tre TNT Mi piace Sono diabolico Vai Dobbiamo farlo fuoco No Ma questa è noia Mi vogliamo proprio Vabbè Rifare Vai Siamo ritornati Ora Rifacciamo la pizza Perché se non Dopo Facciamo Di nuovo la torta E facciamo Nearti due Di un'altra parte Di un'altra cosa Cinque Quattro Tre Ok Tre Quattro Cinque Vai Andiamo Sta tranquillo Non mi avviso Mi avviso Mi avviso Mi avviso Tre TNT Sì, sì Questa qua è la mia vita La TNT Sì E non mi affida Fa cadere Tutti Noi Aiuto Uno è caduto Forse cadeva anche Il suo crimine No Ma è incredibile Il bello Ora vi faccio vedere Una cosa Saremo qui È una pizza Vai Siamo contro Due persone E rifacciamo la pizza Perché E dopo Facciamo la pala No, 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 no Sì Cos'è successo No, ho vinto Non capivo Facciamo Questo Con la pala Ecco E stop Vai È bello Che noi siamo In un posto Dove gli altri Non possono venire Una cosa Quindi Se gli altri Non possono venire Chiediamo La strada Allora Chiediamo Una strada Che l'unico modo È nessuno Bello L'unico modo È nessuno Ma neri Sono tutti caduti Io so che sono tutti caduti Sono tutti andati all'inferno Ma abbiamo già un punto Sono tutti scesi E intanto Aspetta Aspetta State tranquilli Non vi disturbo Perché vi dove Disturbare I due Pincioncini Non mi hanno chiesto la strada Guarda Come io Sono un grande fan Grazie Ecco No Ora voglio vincere Please Pipe e please Poi forse Metto sul canale Pipe e please È bellissimo Tipo Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì Ti pare, ti pare. Questo qua è il blocco dove stiamo seduti. Questo qua, quello lì, è il missile, quell'altro è male, le davanti sono le monete. 3, 2, 1, e butto subito il panda via. Cestino, panda, la sua casa è il cestino, va bene? Perché ci devono essere il meno possibile. Io non ce la faccio a giocare se ce ne sono troppi. Lo so fare anch'io. Vai. Ce ne sono mai. Ci sono rimasti due. Non so se provare. Vabbè, proviamo. E tanto rifaccio un video. No, 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 no. Dovevo spaccare il blocco. Vabbè, sono morto ormai. Vai. Rifacciamo. Rifacciamo così per vendetta. Femme bassa. Termino questo video. Ho detto termino. Dopo termino. Aspettiamo. Vai. Allora. Aspettiamo. 3, 2, 1. Adesso invece c'è qualcuno. Uh, questo qua è fermo. No. Ha capito che io sono fosto. Meno male. Ma, 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 ma. Io ti aspetto. Se cadevo non sai quanto ero triste. Avete visto? Pum. È caduto. Ipi. Allora. Una brutta fine. Bruttissima. Vai. Ma, cioè, te li piace cadere, eh? Sono intelligentissimo. Non vedete? Non voglio vedere che è. Ditemi che è. Per favore. Vabbè, rifacciamolo. Perché non sono ancora passato i 10 minuti. No, ora facciamo la torta. La mia preferita. Che dura tantissimo. Aiuto. Non funziona. Fermo il video. Vai. Ho detto vai. Ho detto vai. Vai. 3, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 1. Allora, quanti? Troppi siamo. Troppi. Questo qua credo che perdo. Troppi. Credo. Sicuro. Perché guardiamo. Guardate quanti sono. Ci perdo. Io siamo in troppi. Ci perdo subito. Così. 2, 1, 2, 1. Vado subito con lui. Umbriamoci. L'intelligentismo. State tranquilli. Vabbè. No, no. Biafato. Faccio il parkour. Io. Guardate quanto parkour faccio io. Che sono. Super me. Vai. Umbriamoci un po' di più. Un altro cielo. Un altro accorso. Vai. Rimango shiftato perché se no lui mi vede. C'è qualcun altro? No. Quindi. Alla riscossa. Smettiamoci di ubriamoci. Umbriamoci. Mi ubriamoci troppo. Non vi dici? Vai. Dan. 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 No. 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 Shiftato per un secondo per sbaglio. Vai. Dan. Vero. 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 Così sto le scale e potrebbe usarle. Ma io sono intondicentissimo. Voglio quanto. Quindi così non l'ho mai visto una persona. Vai. Non è caduto così. Stupi everyday. Gente. Cadere nella pelle. Ma non per me. Vabbè. Credo che per questo primo video è tutto. Quindi. Ciao. Ciao. Grazie.